cammelo a vai che t'ha fai a reto cammina vena cá ti metto a te leare sempre vicino dopo l'ambadine stai tendo ne mette lepre gamba come un'ombraga non lo scassiato vena qua guarda che ancora c'è manco abbiamo unire sul locale dopo ora ci spiemo qui su cardini aspetta aspetta ora ci spiemo senta senta siccome noi non è che siamo di qua mi compagno ci abbiamo mandato qua in Germania perché c'è il locale dove fanno massaggi cose cattigliano fanno tutte le cose che lei mi capisci lei tu fai tu vai scroffino scroffino tu sacconi chi è che dici che so scroffino come scroffino ancora c'è una traccia di scroffa che so senti il pedro dillo va cammelo cammera ma che è questo che è un bracassi davvero va vai cammelo cammera dalle a mio nombra uno da lì da lì lampadine sempre c'è una traccia di scroffino c'è una traccia di scroffino c'è una traccia di scroffino buongiorno non capisci questo ma c'è tutt'anno una traccia di scroffino andiamo a spugliare magari un'acciaio spugliare andando qua con le carrucci e va dire magari in mutanza può luare ricchi non deve luare noi da cacca siamo mescati ma c'è una panza rossa panza sicchia guarda che c'è un cuore non ho un massetto ci dobbiamo stirare qua qua terra cammelo stiramene ora prendiamo traccia panza all'aria non è che noi mettiamo la panza sotto signorina ci mettiamo la panza sotto è che sto ne capisci la panza sotto la panza sopra cammelo mettendo la tua qui sopra esgraziato ma era un mosso tutta testa notalea mi sta facendo affondare e poi non devi accidare ora perché ora con le carrucci ora che stai andando per cuoreare se cuoreiamo tutta ora poi che facciamo o frifiche che pavamo disaffarinente ah vedi che stanno venendo ora ora di sicuro non potono dare distanza ma è un'altra cosa ma è un'altra cosa che io e voi mi picchia qui da tutto picchia qui da direttamente se andate cammelo ahò credo che quando vediamo contiamo non d'altra cosa ah è qui di condimento non mi condito ah ma basta quando diciamo non è che noi siamo chiedi che calzare come finisce ma non stanno votando già stanno qui non abbiamo piano ma c'è ma c'è un'altra cosa ahò c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa ah c'è un'altra cosa Noi siamo qui. Ma ora quanto? 45 centimi. Questa c'è c'è il momento. Camelo, in Europa non mi diceva che da. Ma ora qua, a cusa, ma ora qua. Ma ora che siamo qui? E para se. Au, au, a muda, a muda. Senorina, mi scusi. Senorina! Camelo! Camelo, mi guarda novo! Corri! Corri! Corri, Redondo, esci dalla finestra! Un'idea che è la nuova! A me lo andiamo a usare! Ahi! Ahi! C'è la pancchia da prendere! Sgraziato! Non tocco proprio un cammino! Non lo so che era incappato! Questo papetto! Scusate! Non lo può superare! Non lo potete dire, ma non lo so! Non lo so! Magari ti arrupa tutto sto facendo! Cambialo! Non ci contiamo lento quando arriviamo dalla sigilla i bichini si vendono! E adesso sai che trego? Ti dico che andiamo a deve tutto! Io sai che ne mandiamo! A tutti non 45!